Un luogo di pace e spiritualità come il Convento Francescano del Beato Sante di Monbaroccio è la posizione scelta per la nuova sede del Comitato delle Proloco della provincia di Pesaro e Urbino. Inaugurata lo scorso 26 giugno, la sede è un segno di ripartenza per le Proloco della provincia dopo il 2020, anno segnato dal Covid che aveva spazzato via tutte le attività e gli eventi organizzati. Dopo il taglio del nastro si è tenuta l'assemblea ordinaria delle Proloco dove il presidente Damiano Bartocetti ha illustrato le attività in cantiere e previste per il futuro che vanno dalla stipula di nuove convenzioni con aziende del territorio per supportare le Proloco nella ripartenza, alle collaborazioni con associazioni ed istituzioni e dalla ripresa dell'organizzazione del Natale che non ti aspetti. Sarà un momento dedicato soprattutto ai frati e alle nostre Proloco perché non dimentichiamoci mai il valore dei volontari e l'essenza delle Proloco perché senza le Proloco noi oggi non saremo qui, senza i volontari, senza un corpo fisico non saremo qui a parlare di Proloco, parlare di territorio, parlare di promozione. E parliamo di numeri importanti perché calcoliamo che un giro di affari di circa 5 milioni di euro nel 2020 che si sia bloccato tra risorse dirette e indirette a causa Covid e circa 5 milioni di euro di introiti solo per il Natale. Quindi parliamo del 2020 di circa 10 milioni di euro che non sono circolati nel nostro territorio e questo la dice lunga. Quindi da qui oggi chiederemo un appello all'assessore regionale Baldelli, ai consiglieri regionali, un contributo per la ripartenza e soprattutto un aiuto per il Natale e un aiuto per tutte le Proloco. Tantissime sono state le presenze tra le autorità politiche e militari. A portare i saluti del presidente delle Marche Acquaroli è stato Francesco Baldelli, assessore regionale, il quale ha ricordato che in questo momento stiamo costruendo le Marche del futuro e lo vogliamo fare con le Proloco che costudiscono i valori di comunità e che ogni giorno aiutano le nostre amministrazioni comunali a valorizzare ogni singolo borgo. L'inaugurazione è stata condivisa anche con i frati del convento ed anche con il ministro dei frati francescani minori delle Marche, padre Simone Giampieri. Ecco un luogo che è veramente importante e allora ringraziamo Dio perché ci sono realtà volontariati come anche il Proloco che valorizza l'ambito religioso, culturale e di accoglienza. Questo ci tengo molto, l'accoglienza a tutto campo perché questo è un senso cristiano. Gesù accoglieva tutti e ogni frate che vive con la spirituale di Francesco dietro Gesù deve accogliere tutti sotto l'ombra di questo santo, il Beato Sante che ci protegge e ci guida. Soddisfatto anche il sindaco di Monbaroccio Emanuele Petrucci. Un piacere per il mio territorio, il mio comune avere una sede così prestigiosa da poter presiedere in quanto in un luogo così importante come il Beato Sante, avere quello che è lo spirito turistico territoriale ma io aggiungo anche lo spirito sociale perché le Proloco oltre al fattore turistico, la valorizzazione dei territori, all'impegno dei loro volontari riescono a ridurre quello che è stato il gap che ha creato questa terribile pandemia. La Proloco diventa anche congiunzione di quelle che sono le disparità.